benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo ritornati in un video speciale speciale perchè oltre a dire tante altre cose andremo a fare tante cose in più questo è il primo video dopo un anno che io metto la voce perchè io la voce l'ho sempre usata in live nei video a meno che non si sentiva ma erano video in cui stavo parlando io, non l'ho messa io quindi non era la mia voce reale oggi invece si, riprendo questo no, non mi farei niente noi adesso siamo qua su fortnite siamo arrivati qua su fortnite in più, oh, ci hanno dato una skin nuova xander, mi presento una mia, bello siamo qui su fortnite dopo tanto tempo non a richiesta di nessuno però a richiesta di me stesso perchè lo volevo riportare volevo riportare le vecchie abitudini e quindi oggi siamo su fortnite prima di dire tutto e di iniziare vi tengo di iscrivervi al canale e attivare la campanella tutto con nera che c'è 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 dovrebbe essere il colore nero così se io faccio live se io carico video se io carico qualunque cosa voi vedete allora siamo ritornati qua su fortnite dopo tanto tempo non ci posso nemmeno credere e niente oggi andremo intanto faremo una battaglia ma no, non in caso oggi faremo una singolo poi ovviamente non usciranno di più oggi è stato il primo video di fortnite dopo tanto tempo quindi ragazzi niente dopo tanto tempo riporto fortnite oggi non è un video interamente dedicato a fortnite ma un po' di tutto parlerò un po' di come si può vivere il canale un po' di tutto e poi nei prossimi video ci sarà pure qualche ospite al sorpreso ma non lo dico ancora allora ragazzi allora qua non ci interessa niente post battaglia non ci interessa nemmeno io direi che possiamo premere giochiamo e andiamo possiamo premere start e andiamo allora ben ritrovati di nuovo dopo tanto tempo su fortnite a me questa cosa mi fa tantissimo piacere e oggi niente vorrò parlare di un po' come si evolveranno le cose di cosa succederà in questi giorni perché in questi giorni succederà qualcosa di importante ovvero che cosa il lo speciale 50 iscritti allora io vi dico una cosa lo speciale 50 iscritti si farà quando arriveremo 50 iscritti allora vi voglio non vi voglio spoilerare tutto perché sennò che gusto c'è allora io vi dico una cosa questo speciale non sarà dedicato a fortnite o a videogiochi questo questo video questo speciale sarà dedicato a i treni ma non vi dico in che contesto non vi dico dove non vi dico come quindi non non vi dico niente però sarà dedicato ai treni e niente vi ho già praticamente detto tutto però in più io ho incontrato tanti colpacci ho incontrato tanti colpacci in questi giorni come frecce rossa mille dopo tanto tempo allora siamo ritornati mamma mia da quant'è che non siamo allora io vi vorrei di atterrare subito qua allora dato che succederà questo quindi ci sarà uno speciale bello corposo come non l'ho mai fatto e niente io adesso oggi io sapete come se guardate pure i miei vecchi video parlavo giusto prima di iniziare la partita e poi giusto dovevo parlare ma di qualcosa proprio di se no non parlavo così mai oggi parlerò un po' di più perché capite che è il mio primo video dopo tanto tempo io adesso sto già morendo andiamo a vedere c'è gente quando qualcosa oh metraietta dai ragazzi vedete un campione di lag perché io mi devo reggere tutto allora io me ne potete eh ragazzi spavento io me lo so via via e via ce ne andiamo da qui dai andiamo perché qua non ci voglio stare e non mi piace la situazione vabbè me la prendo guarda giusto perché hai il mirino allora cosa vi volevo dire il canale adesso prenderà una seconda via in senso quella di fortnite perché sono ritornato ma non vuol dire questo che i treni scompariranno no per niente anzi cercherò di fare più video per quanto mi è possibile perché sono pure in seconda media quindi capitemi un po' che scuola è importantissima e quindi qui sto pure cercando di vedere per il nuovo telefono quindi ho un po' di cose da fare in questi giorni buona ho un po' di cose qui c'è qualcosa no andò io direi che ci possiamo stare qua ma questo è un bug ragazzi che c'è tutto questo chi è un bug ragazzi dove cazzo è andato questo ma adesso mi dovete spiegare dove è andato dove è andato quello questo mi ha visto chi mi ha lanciato io ho paura che ok mi sta già di andare alla gara perfetto perché non mi prendo oh ah vabbè potrei oh qua questo è un metallo ma che squilla c'è la pizza mangiamo un po' non ci ricorichiamo ci ricorichiamo allora che cosa abbiamo il mk7 ma prendo volentieri modificato non è lmk7 ahhh mamma mia ok come non detto oh raga da dove brutto per non dire era qui quello di prima no non c'ho io credo ok ritorniamo alla lobby perché già faccio schifo che è perfetto dovete capire che io non ci gioco più da mesi ma che prima ero fortissimo eh però insomma lo facevo del meno meglio adesso proprio sono diventato un nabbo cioè me ne ricordo le cose però allora io volevo farvi vedere una cosa in questi mesi ho avuto tante di quelle skin che ho comprate bestiali allora non sarà uno degli armadietti più corposi però dal che ne avevo 30 ne ho quasi 80 quindi ragazzi non si scherza non si scherza perché sono in due mesi sono avanzato così tanto che manco io mi rendo conto e niente questo è il mio armadietto bello corposo per essere al secondo anno di gioco anche se io lo conosco da molto di più fortemente quindi non allora facciamoci no va bene niente perché non sono in compagnia allora ce l'andiamo a fare un'altra partita e poi basta se no faccio vedere faccio una bellissima figura di no niente e quindi niente avete capito un po' la situazione come andrà in questi giorni in più usciranno dato che da quando ne saranno passati 15 non so dal video in cui dicevo il sondaggio da cosa dovevo fare del canale non so se ne sono postati 15 se ne sono postati 15 avete capito quale sarà ma ve lo dico in dialetto no nel mio dialetto quale sarà l'andazzo comunque quale sarà la via ve lo dico così lo potete capire tutti ah importante una cosa vi farò vedere il video della mia postazione perché non lo faccio vedere da un anno quindi mi sembra più che giusto cosa posso dire sono molto contento di riportare fortnite se mi dite perché non l'ho portato prima è perché primo non c'era nessuno con cui potevo giocare e giocare solo un po' non mi piace seconda cosa non non avevo quella voglia di prima per ripoterci giocare e però adesso si dopo mesi mi è ricomparsa quindi sapete no quando quando io a me mi ritorna in mente una cosa io la voglio sempre rifare perché poi fortnite è il mio gioco preferito quindi non abbandonarlo del tutto sarebbe stato proprio un peccato enorme a vedere che ci buttiamo a sponde schiaffose intanto perché non è aggiornato da fortnite dalmeno l'anno siamo nel capitolo 4 stagione 4 quindi ragazzi tempo nel passato mi ricordo ancora nel capitolo 3 ci sono uno però io direi atterrare a queste casine qua vabbè qua ci terrà qualcuno proprio da me devi atterrarci che quanto mi voglio bene spasso io non mi rifiuto a questi allora meglio che ci mettiamo qua alla fabbrica perché oggi è un po' incasenata eh ok già mi iniziano a sparare ve l'ho detto non giuro che sono un po' incasenata però io mi hanno messo pure troppo qua che dove percorrere un po' grazie lutto meglio di così non ce n'è eh non mi convince ancora qualcuno ma mamma capite il mio stress infatti ah qua dove andò è qui so aspettiamo perché secondo me è qui sopra quindi intanto mi sta laggando a bestia ok pure i rumori si è sentito un po' fatti non so come sentirete l'audio se lo sentite bene poi comunque questa è una cosa da migliorare perché secondo me è qui no erano guardie che demente erano guardie adesso si va da solo il gioco allora se mi faccio ammazzare da una guardia sono un nobbo di quelli proprio quindi adesso oh ragazzi vado solo vado solo vado solo fermatelo vado solo c'è qualcuno qua ve l'ho detto ok ahhh senti qua una parete ce la metterei non si sa mai guarda allora qua mi metto qua così ahhh bello scilbone infatti io pure ho visto quella ma di qua per forza prendiamo altezza che se no qua è un bel casino magari riesco a prendermelo oggi niente per forza qua questo allora scusate che vi dico no che questo è qui io ne metto qua provo un cecchino mmm non lo so allora c'è un'altra guardia ma questo è un'altra guardia l'ho detto però ce n'è uno che ho visto col palloncino ma che non dovevo prendere solo qualche materiale speriamo che ho segnato la guardia che rottura allora qua ci distruggiamo un po' di cose io direi di no vabbè che sono full ci prendiamo una macchina e ce ne andiamo pure un ca come ho fatto a restare vivo non lo so lì dove ok io mi prendo sto camion e chi si è visto la vista infatti c'era qualcuno infatti per forza ma è una guardia non è una guardia è una che vuole combattere ma questo mi rompe il motor ma va affando l'azio e viene può venire pure qua per me io non manco un cecchino è vero se mi nascondo là dove quelle pietre allora lui è ancora il mio raggio d'azione però non so se è una buona cosa oddio chiara no ce n'è uno che c'è ma no non è n'ambo mi stai di su mi dispiace il massaggio ciao quanti cazzo sono da dove da quanti siete urca la miseria ma ma va ok abbiamo capito il mio ma cosa devo ma non ho capito niente oh si fredano loro non ho capito Va bene, va bene, va bene Sono stato stupido Sono stato stupido perché Potevo fare di meglio Ma si sa, questa non è una partita Dedicata a Fortnite, allora io adesso devo vedere A che Minuto di registrazione siamo arrivati Qua non mi disegna, va bene Va bene, allora Io Dico altre cose e poi concludiamo Allora Un'altra cosa che voglio dire Aspettatevi Non aspettatevi contenuti Sempre Di Fortnite A meno che voi non lo dite Tipo sotto a un video precedente Ehm Ehm Vedi Puoi portare Fortnite Perché adesso io devo Organizzare perché non saranno A caso i video No, non è che tipo una settimana solo Fortnite Una settimana solo Ferrovia Una settimana solo questo e quell'altro No, ci saranno i video Saranno tutti ben Messi perché Ehm, per esempio che lunedì Mercoledì E venerdì li farò uscire No, confetto sempre Tre volte settimana va benissimo per me Eppure il mio Quello là che posso fare Ehm Quindi Vi dovrete aspettare Magari Che ne so Sono tre i video E magari ne facciamo Tipo Una settimana Capita uno di Fortnite E due di ferrovie O comunque uno Tipo un'altra settimana Uno di Que Uno di Tipo delle ferrovie E due di Fortnite Quindi Aspettatevi Voi pure in base al video precedente Io tipo faccio Ehm Classi Tipo una No sfida Faccio Sì Così una sfida Tipo parte uno Sfida su Fortnite parte uno E' chiaro che il giorno dopo Cioè comunque il video prossimo Lo faccio Su Fortnite Sfida parte due Sui treni no Sulle ferrovie no Perché Ehm Non li faccio Vicini Li faccio un po' distanziati Cioè Non Non attaccati Quindi Aspettatevi questo Quindi aspettatevi Una numerazione Ordinata Ehm Niente Poi capiterà La Magari La La settimana Con Praticamente solo Fortnite Solo ferrovie Perché magari C'è più disponibilità per questo Più disponibilità per l'altro E quindi Niente Allora Io direi che possiamo Terminare qua Grazie Per chi Ha visto il video Senza averlo Mandato avanti Fino alla fine Ci vediamo qui Buona giornata a tutti E Quindi Aspettatevi video di Fortnite Da oggi in poi Ci vediamo Alla prossima